La parte di chitarra che io posso mettere in un brano, nel senso che la cosa che effettivamente ho molta esperienza e l'ho sempre fatto fin dalle mie prime band, è il fatto di cercare comunque di trovare delle parti di chitarra che formassero una sorta di arrangiamento. L'esempio che potrei farvi è su un giro armonico molto semplice. Mi maggiore, do diesi minore, re, melodia. A quel punto si potrebbe fare una soluzione che è questa. A quel punto si potrebbe fare un giro armonico molto semplice. A quel punto si potrebbe fare un giro armonico.